La Commissione è convocata per lo svolgimento di un'addizione informale di rappresentanze delle organizzazioni sindacali di Cobas, Confal, Confael, CSE, Cub, Gilda, Orsa, SGB e SNA nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentazioni sindacali nei luoghi di lavoro, di rappresentatività nelle organizzazioni sindacali di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega il Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori e la gestione delle aziende in attenzione dell'articolo 46 della Costituzione e la numero 788 Grie Baudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. Avverto che essendone stata fatta richiesta l'audizione informale odierna sarà trasmessa veniante WETV ai sensi del parere dell'aggiunta del regolamento il 26 giugno di 2013 a condizioni che vi sia il consenso degli interessati. Perfetto, non essendo viabiezione dispongo della pubblicità dei lavori sia assicurata mediante WETV della Camera dei Deputati. Avverto altresì che nella giornata di ieri l'organizzazione sindacale SGB ha comunicato un'impossibilità di partecipare all'audizione odierna nella quale sarà rappresentata dai CUB. Ricordo che la relazione potrà avere una durata massima di 7 minuti in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti e i deputati per la replica. Nel ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità segnalo che le delegazioni sono così composte. Cobas, Vincenzo Milucci, componente dell'esecutivo nazionale. CONFAIL, Domenico Marrella, segretario generale confederale e Giovanni Ciano, vicario generale confederale che sono in arrivo. CSE, Marco Carlo Maglio, segretario generale e Mirko Novelli, dirigente nazionale. CUB, Marcello Amendola, segretario e portavoce nazionale Flaica, CUB e Antonio Amoroso, segretario nazionale CUB Trasporti. Gilda, scusate, Gilda, Antimo di Geronimo, dirigente nazionale. Orsa, Andrea Pella, segretario generale. SNA, Claudio De Mozzi, presidente nazionale. Domenico Venuti, presidente della sezione provinciale di Trapani. Cedo quindi la parola a Vincenzo Migliucci, dei Cobas. Ricordo che ha sette minuti e al sesto minuto sentirà la campanella che l'avverte che manca un minuto. Grazie. Prego. Onorevoli deputati, questo provvedimento che stiamo discutendo, quantomeno oggi c'è l'audizione, ha un vulnus che è quello relativo all'articolo 39 della Costituzione. Cioè la gran parte dei sindacati di base, e sono ormai tanti e rappresentativi, mancano dei diritti dal titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori. In mancanza di quei diritti sicuramente anche la misura della rappresentanza e della rappresentatività diviene fallace. Per cui, a premessa, c'è la necessità che il legislatore corregga finalmente, dopo 50 anni di monopolio CGL-Cisliwil, di rendita di queste tre organizzazioni, quello che la Corte Costituzionale è già intervenuta ben cinque volte l'ultima quattro anni fa, chiedendo al Parlamento di finalmente eliminare questa posizione di rendita e dare la possibilità a tutti coloro i quali partecipano alla vita sociale e lavorativa all'interno del Paese, all'interno della singola azienda, di, come dire, gareggiare alla pari. Così non è, lo sapete ovviamente, eccetera, c'è ancora negato il diritto di assemblea, il diritto di referendum, cose fondamentali, basiliari, se vogliamo poi adempiere ovviamente a quella rappresentatività che serve al tavolo contrattuale. Nella misura in cui non ci si dà la possibilità di arrivare durante le campagne sulle RSU e sui rinnovi, ad avere le assemblee e a certificare, con una certificazione di tutti coloro i quali competono alla risoluzione degli accordi e della contrattualità, ovviamente tutto questo ci sembra estremamente non adeguato, non legittimo, abbastanza fallace. Questa è la premessa, la premessa è d'obbligo perché ancora è vigente ovviamente il titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, anche se è stato più volte svuotato dai governi precedenti, e però senza questo adeguamento della legge all'articolo 39 della Costituzione non andiamo da nessuna parte. Cioè il criterio che qui viene immesso sulla rappresentanza dei rappresentativi è solamente di natura ragionieristica per cui quello che è già accaduto nel mondo del pubblico con una legge ovviamente che adegua la rappresentanza a coloro i quali hanno il 5% tra iscritti e elezioni all'RSU viene trasposto direttamente nel privato e qui nella proposta Polverini ci sono anche degli addendum che per quanto riguarda i Cobas sono fuori da ogni contesto, non si darà mai una legge delega al governo per quanto riguarda noi in materia di lavoro. Non se lo darà a maggior ragione nel momento in cui si dispone lì dentro una forma di cogestione subdola che i lavoratori non hanno mai discusso assolutamente e non gli passa manco paracapa nel momento in cui ovviamente non hanno in corso d'opera all'interno delle aziende, vediamo quanta crisi c'è dall'ILBA alla Whirlpool all'Italia eccetera, un organo di controllo, un organo di consultazione. Manca questo fondamentalmente dentro ovviamente quello che chiamiamo il diritto del lavoro, quello che è la democrazia del lavoro. Piuttosto pensiamo a queste cose piuttosto che dare le leggi delega appunto al governo. Ecco sulla vicenda del 5% ovviamente a livello aziendale è una accettabile formula in quanto tale e poi però le aziende diventano spesso gruppi e i gruppi vanno dai 3.000 ai 30.000 ai 50.000 addetti da questo punto di vista e non si può mantenere la stessa misura del 5% perché anche coloro i quali, e la nostra proposta è il 3%, rappresentino ovviamente qualcosa paragonabile a 1.500, 2.000, 3.000 lavoratori tra iscritti e ovviamente questi eletti nell'RSU hanno un peso all'interno dell'azienda, non si può pesare la maggiore rappresentatività appunto perché fa riferimento a quell'articolo 39 della Costituzione che la vieta da ogni punto di vista. E ovviamente se vale per i gruppi, per i grandi gruppi industriali eccetera, alla stessa stregua vale per la contrattazione nazionale. Vedi i metalmeccanici, vedi i chimici, vedi gli edili, vedi il commercio eccetera, grandi raggruppamenti da 1.300.000 a 800.000 a 600.000 lavoratori di cui il 5% è una cifra abbastanza abnorme riguardo a quello che è la rappresentatività del tavolo. Dimenticavo, l'ultima cosa che voglio dire ovviamente è che in quel vulnus del titolo terzo e della mancata adeguamento all'articolo 39 della Costituzione non c'è nessuna sanzione per il datore di lavoro che rifiuta di ricevere le organizzazioni sindacali, di ricevere le loro proposte. Ho studiato a lungo in questi 50 anni di attività il 70% degli scioperi in azienda vengono fatti solo perché il datore di lavoro si ostina a non ricevere i lavoratori nelle loro richieste. È veramente una pazzia da questo punto di vista. in Europa tutto questo non esiste. In Europa esiste appunto l'organo di controllo e consultazione parlo di tutta l'Europa del nord, dalla Germania ovviamente fino alla Svezia, la Danimarca eccetera in Italia sembra che siamo piuttosto nel terzo mondo, siamo in Africa dove la rappresentanza dei lavoratori non esiste. Io ho finito. Grazie mille. Quindi cedo immediatamente la parola al dottor Domenico Marella che mi sembra che lo stiamo aspettando. Quindi cambiamo. Dottor Marco Carlo Magno. Prego. Grazie Presidente. È un piacere che la Camera voglia ascoltare tutte le organizzazioni sindacali su una questione estremamente delicata quale è la rappresentanza sindacale. Ed è una questione su cui noi siamo prontissimi a discutere e ad affrontare. È bene però che la Camera e il Parlamento sappiano quali sono le problematiche ostative alla base. Noi abbiamo applicato e abbiamo questa normativa nel pubblico impiego. Funziona. E funziona talmente bene che laddove è stata applicata, quindi con delle leggi chiare, laddove il datore di lavoro è obbligato a affettuare le trattenute sindacali, laddove le elezioni, le RSU sono pubbliche e c'è un'ampia pubblicità e possono parteciparvi tutti e possono fare tutti pubblicità, abbiamo che ovviamente il sistema funziona. Sono la minoranza, quindi rappresentano meno del 40%, nel comparti come Presidenza del Consiglio dei Ministri CGL e Cisle Will insieme arrivano a stento al 20% e quindi tutte le altre sono altre sigle e negli altri comparti, quindi sanità, enti locali ed altro, non superano e sono attestati intorno al 60%. Ora, ma nel pubblico funziona perché c'è una legge chiara, è stata adottata con una progressività, quindi stabilendo anche dei parametri in una fase transitoria inferiore al 5%, ma è stato consentito a tutti di poter partecipare alla pari. Nel privato, viceversa, le grandi aziende private hanno firmato dei contratti con CGL e Cisle Will che di fatto nega la possibilità di effettuare le trattenute sindacali e quindi ovviamente se io non posso iscrivermi a un sindacato che non sia CGL e Cisle Will di che rappresentatività parliamo. Quindi ovviamente prima di tutto va obbligato il datore di lavoro a trattenere la trattenuta sindacale a qualunque sindacato e a trasmettere i dati all'Inps, perché questo è il secondo aspetto importante se vogliamo effettuare una trasparente censimento della rappresentatività. Ovviamente occorre anche che dare un tempo per poter effettuare, perché dal momento che le aziende vengano obbligate a effettuare queste trattenute occorrerà un periodo, un anno, due anni, tre anni, che ovviamente in quell'azienda o in quei gruppi industriali si possa anche qui promuovere l'azione di sindacati diversi dal monopolio attualmente esistente. E questo vale anche per l'RSU. Oggi nelle aziende non è possibile per i sindacati che non siano quelli firmatari, e poi bisogna anche qui capire che tipi di sindacati e che tipi di contratti. Quali contratti andiamo a prendere? Alcuni contratti la CGL esclusa, come anche i confini, industria. Quindi in altri viceversa vige il solito monopolio. Quindi chi partecipa e chi può farsi pubblicità, chi può chiedere il voto dei lavoratori. Se io non posso affiggere in bacheca un manifesto elettorale, è difficile che in quell'azienda mi votino. Se io non posso fare un'assemblea in quell'azienda, neanche in occasione delle elezioni, è difficile, se non impossibile, partecipare. Se abbiamo consegnato che in quelle aziende, e non consentiamo quindi l'ingresso per un periodo, poi stabilisca il Parlamento quanto, per noi va bene da un anno a tre anni qualunque dato, ma purché ci sia un'effettiva libertà di partecipare. Perché vedete il problema della democrazia è che, ho fatto l'esempio prima del pubblico, nel pubblico dove esiste una esatta democrazia vuol dire che questi sindacati non hanno più il monopolio. Nel privato, qui dove esistono tanti contratti, sicuramente troppi, ma il parametro di questi contratti deve essere quello di rispettare la dignità dei lavoratori, che non ci sia un dumping, non che non ci siano dei contratti migliorativi. Allora si inizia a rispettare che il salario e la retribuzione, come adesso anche tutta l'Italia e anche lo stesso Parlamento ha scoperto che i contratti firmati anche dai soliti noti, molto spesso sono inferiori alla soglia di povertà. Quindi allora iniziamo a stabilire che i contratti sono tutti validi a patto che rispettino dei requisiti di dignità. Poi vogliamo stabilire che questo sia come parametro il salario minimo, no? Come esiste in tutta Europa, in quasi tutta Europa, ma questo è un parametro da valutare. I diritti, certo, perché l'obiezione è che il salario minimo non si può fare perché poi si sottraggano dei diritti, anche questa è una soluzione, vogliamo disciplinare esattamente e garantiamo i diritti, la maternità, la malattia, garantiamo una retribuzione minima che sia dignitosa come prevede la nostra carta costituzionale. Noi siamo prontissimi a fare questo. Ripeto, l'estensione nel privato vuol dire garantire a tutti i sindacati di poter avere la trattenuta sindacale, quindi consentire al lavoratore di iscriversi al sindacato che sceglie e di garantire ovviamente di poter fare la pubblicità mediante assemblee, mediante le bacheche, mediante i mezzi elettronici, ormai esistono anche le bacheche elettroniche, a tutti. È un tempo minimo per consentire che questo processo si possa verificare. Questo è il concetto. A patto, a meno che non si voglia monopolizzare e quindi ridurre già le strette maglie di democrazia che esistono nel lavoro privato a un monopolio che poi gestisce tutta un'altra serie di servizi, fondi interprofessionali ed altro, per cui già così sarebbe difficile competere in maniera democratica, in maniera paritaria. È come se noi presentiamo le elezioni e presentiamo delle liste e non le possiamo né pubblicizzare né farle sapere a nessuno e tantomeno possiamo iscrivere nessun lavoratore e questo ovviamente è un danno per la democrazia, ma è anche un danno per il Parlamento, perché vorrebbe dire consegnare a condizionamenti del Parlamento un monopolio in un settore che ormai non è più rappresentato esclusivamente da sindacati che pur se storici hanno esaurito da questo punto di vista la spinta propulsiva. Grazie mille. Quindi cedo la parola al Marcello Amendola, CUB. Prego. CUB e SGB già nella precedente legislatura hanno elaborato e sostenuto una proposta legislativa sulla nostra questione della rappresentanza sui luoghi di lavoro. Oggi la poniamo a vostra attenzione, l'abbiamo consegnato prima per farla distribuire e con questa breve introduzione illustro l'impianto della proposta. CUB e SGB ritengono necessaria una legge sulla rappresentanza sindacale veramente democratica, quale condizione fondamentale per ridare effettività e vera rappresentatività all'attività sindacale nei luoghi di lavoro e di conseguenza alla contrattazione collettiva. Negli ultimi anni le regole della rappresentanza sono state stravolte con interventi legislativi e accordi tra le parti con il preciso obiettivo di impedire che i lavoratori scegliessero liberamente da chi farsi rappresentare, assegnando nel contempo il monopolio della rappresentanza e della contrattazione ad organizzazioni sindacali compiacenti. Le controparte datoriale hanno riconosciuto ruolo e potere solo alle organizzazioni accondiscendenti e queste hanno ricambiato con politiche rivendicative di favore. Siamo al colmo che il diritto alla trattenuta sindacale, compresa quella dei pensionati, non è riconosciuto a tutte le organizzazioni costituite, ma a quelle opportunamente selezionate. La legge deve garantire prima di tutto i diritti ai lavoratori nei confronti delle aziende e poi quelle delle organizzazioni sindacali. I lavoratori devono poter scegliere a quale sindacato aderire e a quale conferire la rappresentanza dei propri interessi. Ciò non può essere conscientemente impedito come avviene oggi in maniera unilaterale dai datori di lavoro o tramite forma di esclusione posta in essere con la complicità di altre organizzazioni sindacali. CUB e SGB ritengono che la rappresentanza sindacale e aziendale deva essere costruita facendo eleggere ai lavoratori i propri rappresentanti con elezioni libere, democratiche, aperte a tutte le liste costituiti e a gruppi di lavoratori senza riserve per nessuno. Va rafforzato il potere dei lavoratori contro l'eccesso del potere del capitale, consentendo loro di formare sindacati di pari dignità e a parità di condizioni, senza timore di intimidazione da parte dei datori di lavoro. I contratti e gli accordi collettivi non possono predisporre i diritti soggettivi dei lavoratori. Vanno impedite le discriminazioni economiche e previsto soprattutto il reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Assemblee e referendum poi devono garantire una democratica gestione delle vertenze e degli accordi. Le organizzazioni sindacali, per esercitare i poderi previsti, devono adottare statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Tutte le organizzazioni sindacali regolarmente costituiti con democratici statuti devono poter godere di identici diritti in fatto del proselitismo, di delega sindacale in busta paga, di assemblea fuori dell'orario di lavoro, affissione e di accesso alla fabbrica. Prima di misurare il livello di rappresentanza, a cui far corrispondere altri diritti, servono condizioni di partenza che siano uguali per tutti. Dopo si può misurare la rappresentatività, non nelle condizioni attuali in cui alcuni l'attività sindacali purtroppo viene impedita. La legge sulla rappresentanza non può scaturire di un'estensione generalizzata del testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, così come concordato tra CGL, CISLE-GUIL e Confindustria. Cube e SGV sono perciò contrarie alla proposta Polverini e alla proposta Grimbaudo-Cantone. Il testo unico del 2014 è un accordo che la Cube ISGB hanno rifiutato di sottoscrivere. In esso, il sindacato, a fronte della concessione della rappresentanza sindacale esclusiva e dei privilegi che ne conseguono, accetta clausole di pace e sanzioni finalizzate a una progressiva rimozione del conflitto sociale dai luoghi di lavoro. L'intento snatura il sindacato e lo trasforma da colui che deve difendere gli interessi dei lavoratori anche col conflitto, in colui che deve garantire sempre e comunque la pace sociale in azienda, disarmando i lavoratori in una fase storica in cui i lavoratori sono sempre più deboli per la precarietà del lavoro, il ricatto occupazionale e la trasformazione della filiera della manufattura e dei servizi. Siamo dentro un processo in cui le richieste e i tentativi provano a rendere ordinaria e diffusa la contrattazione impecius, cioè una contrattazione non più acquisitiva di diritti di salario ma che li fa perdere. Una legge sulla rappresentanza sindacale veramente democratica deve servire a cancellare quelle regole che hanno permesso di costruire un sistema contrattuale di comodo che, sottraendo il potere alla rappresentanza di mano dei lavoratori, ha consentito ad alcune organizzazioni di sottoscrivere, come nel caso del settore metallo-meccanico, il peggior contratto collettivo dei rinnovi dal 1962-63 ad oggi. Per concludere, sulla questione sciopero, QBSGV ritengono inaccettabile, improponibile proposte volte a limitare il diritto di sciopero o a trasferirlo dai lavoratori alle organizzazioni sindacali. Ritiene, vada rigettato l'accordo sulla rappresentanza stipulato da GGL, Cisli, Willi e Confindustria il 14 gennaio 2014, che impedisce il conflitto a chi sottoscrive l'accordo da cui è partita poi l'offensiva ulteriore per limitare ancora di più il diritto di sciopero. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei dottor Amendola. Adesso diamo la parola al dottor Antimo di Geronimo. Prego di Gilda, prego. Grazie Presidente. Dunque, in primo luogo vorremmo dire che la Gilda Unam svaluta favorevolmente l'intenzione del legislatore di provvedere a regolare con legge la delicata materia della rappresentatività sindacale, al fine di colmare il vuoto normativo che caratterizza tale materia, lo stato attuale regolata puntualmente solo in riferimento al pubblico impiego. C'è però un problema che riguarda delle possibili interferenze tra questo testo di legge e il decreto legislativo 165 2001. Il perché è presto detto. Nella proposta di legge AC 707 all'articolo 12 c'è una semplice disposizione che dice nel settore pubblico si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, mentre nel 788 manca praticamente qualsiasi tipo di riferimento. Ora, se questi dispositivi dovessero essere approvati nell'attuale stesura, in buona sostanza le parti che non sono regolate, cioè le materie che non sono regolate dal decreto 165 2001 in modo diretto, potrebbero praticamente in generale un'automatica applicazione delle disposizioni che sono contenute in questi due disegni di legge, quindi in queste due proposte di legge. Quindi sarebbe opportuno inserire un emendamento di questo tenore in entrambi i disegni. La presente legge non si applica al settore pubblico nel quale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165. Dalla lettura di entrambi i dispositivi in effetti sembrerebbe che il legislatore proponente abbia l'interesse di occuparsi solo ed esclusivamente del settore privato, quindi se questa è l'intenzione sarebbe opportuno esplicitarlo perché la materia delle relazioni sindacali è sempre una materia molto scottante, molto difficile, il contenzioso è sempre presente, quindi sarebbe opportuno fugare questo dubbio. D'altra parte, a conforto di quello che sto dicendo, vorrei leggere il comma 2 del decreto 165 2001 che dice i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dall'esposizione del capo 1, titolo 2 del libro 5 del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute presente nel decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo, quindi il rischio dell'interferenza esiste, quindi sarebbe opportuno evitarlo, tanto questa cosa mi sembra abbastanza pacifica da parte del legislatore proponente, quindi è una cosa importante. poi ovviamente siamo favorevoli all'estensione al settore privato del criterio del 5%, perché è un criterio che funziona benissimo nel pubblico impiego, l'abbiamo sperimentato, è assolutamente trasparente, quindi tutto sommato noi riteniamo che questa sia una cosa estremamente utile. in più vorremmo fare una piccola osservazione per quanto riguarda il 788, in particolare quando si fa riferimento al giudice del lavoro. Anche questa è una situazione assolutamente pacifica quando si parla evidentemente di atti negoziali di diritto privato to court. Questa potrebbe essere una buona occasione per introdurre all'interno di questi meccanismi dei rimedi stragiudiziali. Perché chiediamo questo? Perché di fatto i lavoratori non hanno la possibilità di accedere alla giustizia ordinaria, perché il processo del lavoro è molto costoso e molto lungo. Un ricorso in primo grado mediamente costa 1.500 euro, soltanto l'azione, le spese della soccombenza mediamente si aggirano intorno ai 2.800 euro. Ora considerando che le retribuzioni dei lavoratori non solo del privato ma anche del pubblico impiego sono estremamente basse e noi riteniamo che sarebbe opportuno introdurre delle disposizioni che prevedano espressamente la possibilità della conciliazione e dell'arbitrato. Però attenzione, qua stiamo facendo riferimento all'arbitrato irrituale, quello che di solito è previsto dai contratti collettivi nazionali, perché l'arbitrato rituale costa comunque un sacco di soldi. Diciamo situazioni economiche che poi consentano anche la deflazione del processo del lavoro. Perché ad oggi per effetto del decreto Brunetta che praticamente ha cancellato tutti questi rimedi stragiudiziali nel pubblico impiego, anche le controversie di natura bagatellare del pubblico impiego che riguardano evidentemente milioni di lavoratori vanno a finire solo ed esclusivamente davanti al giudice. Penso che questa potrebbe essere un'occasione per salvare capa e cavoli, cioè risolvere il problema sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Riteniamo che questa sia una proposta che vi preghiamo di tenere in considerazione. Per il resto è stato già detto molto, quindi non ripeto quello che hanno detto già i colleghi e nel caso lo riteneste vi rinvio alle memorie che abbiamo depositato. Grazie. Grazie mille. Allora quindi cedo la parola Andrea Pelle dell'Orsa, prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Sì, inizio da dove ha finito il collega. Quello che noi vi diremo è stato già toccato qua dentro e concentreremo il nostro intervento su tre punti di questa legge che secondo noi vale la pena attenzionare. In premessa anche noi riteniamo che una legge sulla rappresentanza sia ormai indispensabile. Quindi l'augurio è che si faccia al meglio. Iniziando proprio dall'articolo 1 della legge. La premessa della legge dice noi vogliamo, visto che c'è una stratificazione delle organizzazioni sindacali, il legislatore intende un po' organizzare, semplificare quello che è il sistema delle relazioni industriali. Ma il problema delle relazioni industriali non è solamente il riconoscimento di un'organizzazione sindacale a trattare. Come dicevano prima è anche il problema dei diritti sindacali. Perché i diritti sindacali non sempre seguono la titolarità delle relazioni industriali. Mi viene in mente per la più clamorosa che poi è da lì che nasce anche il testo unico sulla rappresentanza e il dibattito che si è definitivamente aperto sulla materia. La sentenza della FIOM, quella della 231 della Corte Costituzionale. Quale fu lì il problema? Il problema fu che la FIOM rifiutandosi di sottoscrivere in contratto aziendale, la FIAT gli ha detto tu sei fuori insieme all'RSA, non ci sono più i diritti sindacali. Quindi siccome questa è una materia che è importante e fondamentale e che spesso il datore di lavoro tende a giocarci sopra, noi riteniamo e questa ve la facciamo come prima proposta che nell'individuare la rappresentatività di un'organizzazione sindacale, quindi il 5% o quello che sarà, aggiungere che quelle organizzazioni sindacali per il loro grado di rappresentatività hanno accesso ai diritti sindacali di cui al titolo terzo della legge 300. Quindi stabilire finalmente per legge che il diritto sindacale non è un favore che te fa il datore del lavoro, ma è un diritto che spetta a chi rappresenta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è un po' più articolata. Perché? Perché il testo della legge parla di accertamento del 5% per le relazioni sindacali e parla di un ulteriore accertamento per le confederazioni che maggiormente rappresentative sul suolo nazionale. Quindi sono due rilevazioni. La prima è matematica, viene fatta col dato ponderato, testa di iscrizione, voto dell'RSU, un'istituzione o rinnovo dell'RSU. La seconda è un po' più fumosa. Perché è fumosa? Visto che, e questa è la particolarità di questa legge secondo me che andrete a fare, non è poco quello che voi delegate a quelle organizzazioni sindacali. Perché dire che le organizzazioni sindacali, le confederazioni maggiormente rappresentative possono organizzare attraverso accordi interconfederali, fare cose, non è una roba da poco. Cioè è una delega pesante quella che la legge dà a queste organizzazioni sindacali. Visto che noi veniamo da una storicità in questo Paese dove i colleghi ve l'hanno un po' raccontato, chi è un po' più arrabbiato, chi è un po' più serenamente, però che veniamo da una storicità dove quali sono i sindacali? Uno, due, tre. Poi nella realtà proprio così non è. Quindi secondo me questo passaggio è fondamentale. Innanzitutto la legge parla di settore privato. Il dato che va a rilevare il CNEL è spurio. È un dato che tiene conto di pubblici, commercianti, disoccupati, immigrati. Lui prima mi ha detto una categoria che neanche mi ricordo. Sarà un dato, visto che queste confederazioni dovranno andare un po' a organizzare, un settore specifico, quantomeno debbono essere confederazioni che abbiano un grado di rappresentatività tale nel settore privato da poter organizzare. Perché se noi prendiamo i pensionati, prendiamo il pubblico, prendiamo tutto quello che c'è in giro, ma l'organizzazione deve essere fatta pur sempre nel settore privato. Quindi il legislatore dovrebbe prevedere quantomeno uno strumento per dire quali sono le confederazioni più rappresentative in questo settore. Allora lì ottieni una norma imparziale. Perché come scritta già sappiamo dove cadrà il frutto. È già così. Quindi la seconda proposta che vi facciamo è di valutare dei criteri di, quantomeno, ripeto, le tessere utili per dire questi sono quelli più grandi. Prendete quelli del settore privato. Dopodiché, per non farlo restare un circuito chiuso, occorrebbe anche una soglia per dire che la confederazione Pinco Pallino per il grado di rappresentatività che ha o che ha ottenuto o che si è guadagnata è un'organizzazione sindacale che non può essere esclusa da un patto interconfederale. Perché poi queste cose qua hanno certamente successive ripercussioni su quelle che sono le tenute degli accordi. Perché se chi non rappresenta nessuno scrive cose per chi rappresenta, finisce come va raccontato il collega prima, a scioperi e quant'altro. Il terzo punto, e chiudo, riguarda quello che ho letto in premessa, perché la premessa è la presentazione della legge. Parla di, in qualche maniera, legittima l'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e i successivi e quelli prima che sono stati fatti sempre dai sindacati tradizionalmente più rappresentativi. E poi nella stessa premessa pone come obiettivo per la legge la questione dell'applicazione erga o monestere dei contratti, cioè l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Allora, qui secondo me c'è un problema che se non lo risolvete adesso resterà irrisolto. Perché? Perché quello che è venuto avanti nel frattempo con i famosi accordi interconfederali, ad esempio per i contratti aziendali, prevedono una votazione da parte dell'RSA o dell'RSU se sono stati istituiti. Quando parliamo dell'applicazione erga omnes può starci, e ci stanno, perché mediamente in ogni azienda abbiamo un 30-40% di lavoratori non sindacalizzati, ci sono dei lavoratori che non hanno alcuna delega sindacale e quindi dicono ma a me non mi rappresentava nessuno lì dentro, né organizzazioni sindacali, né RSU, né RSA, nessuno. Quindi, se l'unico modo a nostro avviso per risolverlo, e quindi in qualche maniera che va a modificare quelli che sono gli attuali accordi interconfederali, è che a qualsiasi livello di contrattazione, e quindi anche aziendale, quelle normative lì debbono essere votate dai lavoratori. Quello è l'unica maniera per dire, ok, quantomeno si è espressa la maggioranza di tutti. Anche perché guardate che il combinato, quando si dice le organizzazioni sindacali che rappresentano il 50% più uno degli iscritti, potenzialmente possono essere il 20% dell'azienda, quindi ecco perché se il requisito è, se il tema è l'applicazione erga omnes di una normativa contrattuale, occorre per forza passare tra i lavoratori. Vi ringrazio, ho finito. Grazie a lei. Diamo la parola al dottor Claudio De Monizzi. De Mozzi, prego. De Mozzi, grazie. De Mozzi, prego, SNA. Lo SNA, grazie innanzitutto per l'invito all'audizione. Io sento la necessità di illustrarvi la particolarità dell'associazione che rappresento. Lo SNA è un'associazione che opera sia come associazione datoriale, perché noi scriviamo e rappresentiamo gli agenti di assicurazione che sono delle partite IVA, quindi delle microaziende. Quindi stipuliamo dei CCNL con le controparti classiche che si applicano ai lavoratori dipendenti dei nostri iscritti, cioè degli agenti di assicurazione microaziende. D'altra parte siamo anche un sindacato di stampo più rivendicativo, siamo la parte debole nel confronto dell'ANIA, cioè dell'Associazione delle Imprese di Assicurazione, con la quale stipuliamo un accordo quadro, richiamato anche dal Codice Civile, e che da cento anni firmiamo con l'Associazione delle Imprese Assicurative. Nasciamo infatti nel 1919, quest'anno facciamo un secolo di storia. Ecco, io spero di mettere a vostra disposizione quel minimo di esperienza che ho tratto dalla Presidenza di questa associazione, sia sull'uno che sull'altro fronte. Sul fronte rapporti con le associazioni dei lavoratori, io sarei così dell'idea di ricordarvi che la pluralità di sindacati, confederali e non, è ormai una caratteristica diffusa dei vari settori produttivi. Per cui vediamo con una certa diffidenza attribuire particolare autonomia o addirittura riconoscere un valore erga omnes a delle negoziazioni fatte soltanto da alcune parti, che potrebbero essere le più rappresentative per macro-categorie, ma in alcuni settori o sottocategorie essere assolutamente ininfluenti e non rappresentative. Chi vi parla, ad esempio, ha stipulato un CCNL nel 2014 con i sindacati autonomi perché le più note sigle sindacali dei lavoratori, dopo aver intrattenuto con noi un tavolo negoziale che non dava i frutti sperati dai rappresentanti dei dipendenti, si sono scelti un'associazione datoriale fondata due anni prima, che non aveva mai firmato CCNL in passato e si sono sottoscritti un CCNL con la pretesa di attribuire a questo contratto valore erga omnes anche sugli iscritti alla nostra associazione. Questo per dire che i contratti pirata, usando una terminologia che va di moda, vengono fatti anche dalle associazioni dei lavoratori, quelle che a livello generale sono considerate le più rappresentative, ma che nella nostra categoria, ad esempio, non lo sono affatto. Un numero certificato dall'Inps coi flussi, un IEMS, ad esempio, è quello dei lavoratori dipendenti ai quali viene applicato il nostro contratto collettivo firmato con gli autonomi. Su 25.000 lavoratori circa, calcolati dal nostro centro stubi, 19.000 applicano il nostro contratto. Ecco, quindi cercare di dare valore erga omnes a quello firmato dalla parte nettamente minoritaria solo perché beneficia di una sigla, di un marchio notoriamente riconosciuto come rappresentativo, penso sarebbe un errore importante. E su questo condivido, ho sentito per la prima volta parlare il primo audito rappresentante di Cobas, condivido pienamente le criticità che ha fatto emergere e le sottoscriverei. Tra l'altro, guardate, il fatto della moltiplicazione contrattuale, vi ho dato dei dati, ho consegnato una relazione scritta, rilevata dal CNEL nell'ultima relazione. Insomma, se andiamo a percentuali di tre aziende su una, estranea al mondo confindustria, che firmano con sindacati diversi da CGL e CISLEGUIR, vuol dire che è un problema di frammentazione, e c'è evidente. E allora raccomanderei ulteriormente particolare attenzione a attribuire valore erga omnes ai contratti. se non andassimo a cercare l'effettiva rappresentatività per ciascuna singola categoria, intendendo per essa quella a cui viene applicato ciascun singolo CCNL. Perché più alziamo l'asticella e lavoriamo per macro-categorie, più confondiamo le idee e non riusciamo a rappresentare effettivamente la tutela e la volontà dei lavoratori coinvolti. Nella mia categoria, ad esempio, abbiamo dimostrato anche in sede giudiziaria che il numero degli iscritti a quelle sigle che, come dire, millantavano una rappresentatività particolarmente elevata è quasi nullo. Ecco, allora dover andare in tribunale per superare queste criticità ci spaventa un po'. Poi, altro aspetto, sarebbe forse ora, non so se arriviamo lunghi, se l'iter è già tutto completato, però di prevedere come è per l'associazione che io rappresento pro tempore in questo momento, che i bilanci delle associazioni sindacali, come di tutte le aziende, come di tutte le organizzazioni trasparenti, siano finalmente pubblici, revisionati, certificati e direi anche che un'associazione sindacale, come ad esempio la nostra, non possa avere degli introiti superiori, io ho indicato una cifra ad esempio del 20% del totale dei ricavi, derivanti da attività diverse da quella della raccolta delle quote di iscrizione degli iscritti. Perché se l'80% del mio fatturato deriva da altri servizi in concorrenza con le imprese, il mio non è più un sindacato ma un'azienda di servizi. E quindi forse in una legge sulla rappresentanza potrebbe, dovrebbe trovare spazio anche un limite legislativo in questo senso. E ultimi aspetti, ma li trovate scritti nella relazione che ho lasciato alla Commissione, ad esempio quando c'è coesistenza di diversi CCNL, perché non credo che una legge possa pensare di spazzare via tutti quelli che esistono e ripartiti da zero, dove ce ne sono più di uno, come anche nel mio settore ce ne sono ben tre, alcuni firmati pensate da delle sigle che hanno 300 iscritti, ma vi ho citato anche con nomi e cognomi i casi, e quando ce ne sono di più io direi che un fattore da misurare potrebbe essere quello della maggiore applicazione. Cioè il CCNL più applicato è quello evidentemente riconosciuto sia dai dattori di lavoro che dai lavoratori come quello di riferimento che tutela al meglio i rapporti aziendali in quel determinato settore. Quindi quando non ce n'è uno che è quello firmato dai più rappresentativi sia dattoriali che lavoratori, si potrebbe proporre di andare a contare le effettive. Gli strumenti ci sono perché con i flussi Uniemens che vanno agli enti bilaterali si è già in grado di dare per ogni codice contrattuale il numero delle applicazioni. Quindi è un dato che voi potete già avere, infatti questa è la ricerca che io ho fatto prima di esporre i numeri sul nostro contratto. E poi, così come ultima indicazione, noi vediamo che come misurazione più semplice della rappresentanza, io lo vivo, essendo un sindacato di partite IVA, anche da parte dattoriale, è quale miglior elemento che il numero delle imprese associate, cioè senza andarci a complicare troppo i meccanismi di calcolo, da parte dattoriale potrebbe anche essere semplice. Ma da parte dattoriale non vediamo questa necessità di superare la pluralità delle sigle associative. Così non concordiamo sull'articolo 2, la tariffa minima obbligatoria per aderire a un sindacato, insomma è tra virgolette tariffa minima obbligatoria, non comprendiamo perché dovrebbero essere i contratti collettivi a stabilire i contributi associativi, ma ve lo butto là, è come motivo di riflessione. E poi così spezziamo una lancia sull'idea che probabilmente il valore erga omnes ad un singolo contratto in un settore forse è una cosa di cui non si sente così il bisogno per quanto riguarda i minimi tabellari retributivi, forse sarebbe più percorribile una strada di riconoscimento di tutti quei contratti firmati dalle forze sindacali e definibili con criteri legislativi come forze sindacali, io vi ho dato qualche indicazione ma non pretendo di essere esaustivo, però facendo riferimento a un minimo di qualità dei contratti, tra cui un salario minimo, tra cui determinati criteri di welfare, tra cui determinati diritti, penso alle ferie e ai permessi sindacali, che dovrebbero caratterizzare per qualità i contratti per essere ritenuti validi e come tali tutelabili dalla legge. Io avrei terminato, grazie. Grazie mille. Ultimo intervento di Confael del dottor Domenico Marrella. Prego. Allora, chiedo scusa per motivi molto gravi familiari, purtroppo a me sono arrivato in ritardo. Non si preoccupi, non si preoccupi. Io ringrazio per la convocazione, per essere stati auditi. Ahimè, dispiace che è stato fatto, non voglio fare polemica. Eravamo in otto al Palazzo Chigi, non capisco perché oggi sono da solo. Comunque va bene lo stesso. Diremo al Ministro, al Primo Ministro del Paese che mi fece i complimenti, al Ministro Di Maio, poi magari se ancora oggi esistono i tavoli di serie A, di serie B. Lasciamo perdere la polemica, poi dopo magari chiederemo spiegazioni. Detto questo, noi facciamo fede a quello che cita l'articolo 39 della Costituzione. Siamo in Italia, siamo un Paese libero sotto ogni punto di vista, un Paese repubblicano, ma ancora oggi c'è la casta, i tre tenori, e oggi abbiamo l'ennesima testimonianza dei tavoli di serie A e di serie B. Ma per non fare polemica, quello che voglio dire, ci rifacciamo a vecchie sentenze dell'81, dove già nell'81 la Costituzione disse, ogni cittadino si deve poter rappresentare da chi vuole. Noi, anche se, come ci avete chiesto in maniera molto sintetica, una paginetta, abbiamo dato dei piccoli spunti, anche in merito a qualche piccolo dettaglio da inserire, dove il capo 1, diciamo, va ampliato il contesto di riferimento, inserendo tutti i contesti lavorativi, compresi quelli del terzo settore, oltre ai classici aziendali produttivi, togliendo i termini impresa e unità produttiva, in cui sia presente anche un solo lavoratore con qualsiasi rapporto giuridico. Perché ogni lavoratore deve poter essere rappresentato, ripeto, al capo secondo, dove si parla di soglia, di efficacia dei contratti, andrebbe udotto al 30% più 1, al fine di aumentare la competitività della contrattazione e garantire la copertura dei diritti del lavoro alle realtà più piccole. Allora, siccome, come già citato, ho sentito, ma sicuramente l'avranno fatto gli altri colleghi, mentre sul pubblico impiego abbiamo delle regole, sul privato non c'è. Ma c'è un fatto, perché poi, magari senza che leggo gli altri punti che abbiamo rimesso, e poi, insomma, tanto ce l'ho scritto, voglio dire, la problematica è che, spesso e volentieri, è che, a livello aziendale, seppur presenti con RSU, RSA, con degli iscritti, magari con una ragionanza relativa, il solo fatto che il datore di lavoro non convoca, a livello aziendale, le sigle presenti, perché non firmatarie. Ora, questo è una discriminante. Poi, se noi vogliamo rendere veramente questo sistema plurale, e non fare più quello che poi succede tra confindustria e tre tenori, come li chiamo io, l'escludendum, perché poi si fanno gli accordi, mettono le asticelle, e chi è presente sul territorio, e questo adesso lo riprendo, questo valore, perché poi dobbiamo vedere chi è presente nel Paese, se no, purtroppo è semplice. Cosa voglio dire? Non solo l'iscritto è l'RSU, e no, signori miei, siamo in un Paese democratico, ognuno esprime il voto, l'Italia si è espressa e ha scelto questo o quel governo, quando ogni tre anni si va a votare, sia nel pubblico impiego, ma anche nel privato impiego, ognuno sceglie la propria sigla e il proprio rappresentante di cui si vuole far rappresentare. Quindi, anche solo con l'RSU, a prescindere del numero degli iscritti che ci sono, se ho un'organizzazione, vado al cuore del problema, come la nostra, con centinaia di dipendenti e di sedi e di codici fiscali aperti su 18 regioni oggi, siamo presenti nel territorio, e anche questo va messo nella legge. Senza mancare di rispetto a nessuno, qua ci sono sigle storiche, che hanno fatto anche la storia, voglio dire, di alcuni comparti di nicchia, ma magari sono strutture che hanno 20-30 dipendenti, hanno, con tutto rispetto dovuto, 70 sedi. Ci sono strutture come la nostra, che vengono bersagliate ovunque, perché diamo fastidio e quindi vorremmo essere ascoltati ed essere sempre più presenti. Quello che voglio dire cos'è? Avere la possibilità quindi di questa nuova regola, ossia che anche il voto RSU, solo quello possa essere preso a riferimento, a stabilire una rappresentanza. E poi, per andare a conclusione, nelle note che noi abbiamo messo, ci sono delle cose particolari. Il vincolo sulla delega, e su questo, lo devo dire, ahimè, che il sindacato confederale classico adotta dei metodi un po' distorti. Tu non ti puoi disdire la delega, perché se no per un anno la paghi, lo stai, cioè ci sono regole e regole, che poi il datore di lavoro avalla e non va bene. E soprattutto essere presenti sul luogo di lavoro significa essere ascoltati e non essere esclusi. Detto questo, siamo poi disponibili a ulteriore fase di confronto, laddove fosse necessario, anche con il nostro centro studi, non ci sono problemi. Fermo restando che siamo, per questa nuova introduzione, per dare delle regole certe e auspichiamo che il lavoro porti a una definitiva nuova disciplina. Grazie. Grazie a lei, dottor Marella. Giusto per una precisazione, questa è la commissione lavoro, il governo è un'altra roba. Io credo che il governo abbia dato la possibilità a tutti di ascoltare. La commissione è molto attenta a quello che dicono le parti minoritarie, perché sennò noi non vi avremmo chiamati. Siamo a disposizione per accettare consigli, ma allo stesso tempo dobbiamo distinguere il governo e il Parlamento. Noi siamo qua ad ascoltare e ad cercare di cogliere tutte le buone istanze che voi ci portate. Quindi se ci sono domande da parte dei deputati, sono domande? Prego. Onorevole Viscomi, prego. Sì, grazie, grazie Presidente, grazie a tutti. Io cerco di fare sintesi delle tante suggestioni che però avete messo in campo. Anzitutto consentitemi di porgervi il saluto e le scuse di Chiara Gribauda e Carla Cantone, firmatari della 788 che sono impegnati in una discussione con il gruppo sulla questione della Libia, come forse avrete visto sui giornali. Scusi, Onorevole Viscomi, mi permetto, anche l'Onorevole Polverini mi ha pregato di avvisarvi che anche lei ha avuto un contrattempo e sostanzialmente riprenderà tutte le memorie che voi lasciate e farà un check, dato che è anche la sua proposta di legge. Mi perdoni, Onorevole Viscomi, se mi sono permesso. No, no, va bene così infatti anche per segnalare l'importanza dei documenti che lasciate qui in visione. Ora, la seconda, la prima impressione che ho, che maturava se ascoltando le vostre osservazioni al di là del carattere più o meno focoso dell'intervento come si diceva prima è che questa discussione sulla rappresentanza noi non riusciamo mai a portarla a compimento se non riusciamo a mettere insieme la questione del sistema di relazioni industriali perché forse il grande assente in tutte queste nostre discussioni è come sta cambiando il sistema di relazioni industriali in questo Paese. Non vorrei che ragionassimo sulla rappresentanza guardando a un sistema di relazioni industriali che abbiamo lì ancora alle spalle e dall'altro lato tutte le questioni che stanno invece in discussione al Senato in questo momento e che pure voi avete richiamato in qualche misura sul salario minimo perché il salario minimo è di 9 euro la proposta del PD di giugno dell'anno scorso la proposta dei colleghi 5 Stelle e della Presidente Catalfo che in questi momenti è in discussione insomma danno questo valore più o meno di 9 euro però sono tutte le proposte consapevoli del fatto che è un salario minimo senza una discussione sulla rappresentanza e quindi sull'efficacia dei contratti quindi che cosa voglio dire con questo che abbiamo davanti un magma spesso difficile da gestire sistemi di relazione industriale sistemi di contrattazione collettiva efficacia del contratto collettivo tutela dei diritti dei lavoratori sia sul piano economico sia sul piano normativo quindi anch'io parto come voi dall'articolo 39 della Costituzione però questo articolo 39 della Costituzione dice a un certo punto che i contratti collettivi stipulati dai sindacati in proporzione del numero degli iscritti hanno un'efficacia allora il problema nostro è che dobbiamo risolvere questa questione visto che l'articolo 39 così com'è risulta difficile da applicare per una serie di motivi altrimenti l'avremmo messo in alto già negli anni passati ma dopo il scontato che l'articolo 39 è così com'è nessuno riuscirà mai a metterlo in atto perché quella proporzione al numero degli iscritti è un termine così vago che non riusciremo mai a definire esattamente come si diceva prima cos'è questa entità che si chiama iscritta all'organizzazione sindacale al fine di dare efficacia ai contratti collettivi quindi cerchiamo di trovare una strada possibile in questo marasma e in questa strada credo che ci sono due o tre anzi più di due o tre suggestioni che avete dato sulle quali vorrei però chiedere un approfondimento la prima suggestione è il perimetro contrattuale tutti più o meno l'avete detto calcolo misuro la rappresentanza di un sindacato sì ma qual è il perimetro di riferimento perché nel pubblico impiego il perimetro di riferimento è definito dalla legge definito dalla legge noi abbiamo una legge che definiva gli undici comparti di contrattazione e la stessa legge ha ridotti i comparti di contrattazione a quattro lasciamo stare poi se in questo momento sono quattro o più di quattro o meno di quattro e così via no? abbiamo un problema e lo sappiamo tutti però c'è un intervento legislativo che definisce i perimetri in qualche misura un intervento legislativo non forte perché comunque è negoziato con le organizzazioni sindacali ma c'è una legge quindi nel privato abbiamo però un problema di definire i perimetri contrattuali chi deve definire i perimetri contrattuali nella definizione della rappresentanza seconda questione che mi avete come dire mi ha molto colpito è la questione delle garanzie del procedimento elettorale se ricordo lei diceva no? io voglio stare in competizione elettorale consentitemi di fare la competizione quindi di essere presenti in un dato periodo di tempo in azienda per proporre la mia per avanzare la mia proposta sindacale e chiedere il consenso dei lavoratori altrimenti ovviamente poi si crea un cortocircuito dal quale è difficile riuscire anche su questa questione delle garanzie elettorali vorrei però che qualche parola in più riuscissimo a capire meglio come dovrebbe funzionare il sistema terza osservazione credo consentitemi di dire che l'intervento della Gilda del dottore Di Geronimo è per me particolarmente stimolante forte soprattutto nella misura in cui mi dice faccio su tre punti ADR partecipazione e pubblico impiego metto da parte la questione del pubblico impiego è un'osservazione tecnica molto chiara il rischio di invasione della legge diciamo privata nel campo pubblico si tratta semplicemente di mettere in negativo ciò che oggi è scritto in positivo quindi su questo io personalmente l'accoglierei subito sull'ADR però un ragionamento lo dobbiamo fare serio perché noi abbiamo avuto una serie di proposte di forme alternative di risoluzione delle dispute che non hanno mai trovato in realtà applicazione nella concretezza della quotidianità lavorativa perché i lavoratori non si fidano perché gli stessi sindacati spesso non hanno come dire un incentivo a ricorrere a forme di risoluzione delle dispute diverse dal contenzioso perché c'è comunque la figura del giudice togato che in qualche misura rassicura tutti io personalmente sono molto favorevole a introdurre delle forme alternative di risoluzione conciliative di arbitrati rituali anche perché e ho anche da quando l'ordinamento giudiziario chiuso presidente consente l'ingresso dei giudici non togati nella materia del lavoro ho sempre pensato che il giudice togato fosse una garanzia e che il processo del lavoro richiedesse un giudice non togato l'ingresso dei giudici non togati nella materia lavoristica a mio avviso crea un punto interrogativo sul quale vale la pena ragionare e ultimo punto poi chiudo sulla questione della partecipazione anche qui accolgo come direi il suggerimento della Gilda nel senso di ragionare tra partecipazione e contrattazione collettiva la partecipazione non può essere soltanto affidata alla legge ma deve essere gestita anche in modo pregnante dei contratti collettivi sono soltanto piccoli spunti queste 3-4 questioni sulle quali vorrei chiedervi la vostra di fare un piccolo approfondimento per quanto è possibile però vi pregherei sempre di tenere in considerazione che la rappresentanza è una tessera di un mosaico molto più ampio e più delicato rispetto alla quale forse avremo bisogno di ceselli di bisturi anziché di approcci come dire aggressivi non al tentativo di aggressivi concettualmente non aggressivi fra le persone grazie 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 Nerole Viscomi qualcun altro vuole aggiungere qualcosa prego allora facciamo così partiamo da là rispondiamo uno per rappresentante senza che io ci autoregolamentiamo nel senso un minuto e mezzo a testa e ci siamo prego inizia lei prego dottor Marella prego si grazie ma guardi anche perché così abbiamo l'opportunità di un piccolo inciso ringrazio Sono l'onorevole, guardate, è semplice, per fotografare il problema di questa norma, da quando è stata introdotta la 8098, parlo degli articoli 410 e 11 del Codice Civile, parliamo semplicemente di conciliazione. Voi mi dovete spiegare, alle soglie del 2020, in un paese, noi abbiamo l'Europa nel simbolo, siamo in Europa, non ce lo dimentichiamo, dove negli altri stati questi problemi non ce l'hanno, ma io, signor Mario Rossi, se a me non mi piace farmi, perché non è che ce l'ho a morte, è una questione di essere antagonista, se io non voglio farmi rappresentare, da Cigile, Cisloquillo o altre due o tre sigle di amici confederali autonomi che hanno firmato dei contratti e io ho un problema con il mio datore di lavoro, ma ho la libertà di poter scegliere un mio rappresentante di una sigla che può essere Confel, Orsa, Gilda, Cobas o qualsivoglia sigla, addirittura, spesso e volentieri i nostri rappresentanti, nonostante siamo stati, insomma, convocati, insomma, dal primo ministro di questo paese ci rimandano indietro, ma sai così, a malà non puoi, questo è la fotografia che va messa a mano la norma, perché se c'è una libertà, ecco dove va cambiato, e poi, ribadisco, avere la libertà di esprimere il proprio voto e scegliere il rappresentante di Cobas, di Confel, Gilda o Pinco Pallo, significa che se un'organizzazione, magari con delle regole, con una soglia di sbarramento, raggiunge un minimo di persone elette, quella confederazione, vuol dire attraverso le proprie, chiaramente, federazioni, perché sono le federazioni aderenti o promosse a quello che è, che partecipano all'RSU, hanno il diritto di essere rappresentativi perché sono in mezzo alla gente, che deve avere la libertà di esprimere il consenso e di scriversi a chi vuole, non perché c'è qualcuno che da 70 anni ha stabilito determinate cose e deve per forza andare così. Allora, come ho dichiarato a marzo al professor Conte, oltre la voglia di cambiamento politico, e glielo dico come leader di un sindacato autonomo che è sotto gli occhi di tutti, Confel, quello che sta facendo nel Paese, o ovunque, su 90 province ormai, quasi dalla totalità delle province in Italia, quello che voglio dire è che dobbiamo finirla a che ci sia la casta che finalmente i maestri del sindacalismo autonomo, scusate confederale, cioè Cigile e Cigile abbiano il coraggio di confrontarsi su temi validi, perché sennò poi qui alla fine giochiamo sempre ad escutendum e non riusciamo a confrontare anche le nostre idee, perché così è come la pubblicità vincere facile, così non va bene, e penso che tutti i colleghi, o la pensano in questo modo, che è giusto potersi confrontare. Poi il popolo, il popolo deve scegliere, il popolo, grazie. Mi scusi la domanda e mi permetto, quanti iscritti avete voi come sindacato? 178 mila. Grazie. Sì, credo che alla base dei quattro quesiti che l'onorevole si è posto, ci sia il criterio fondamentale è quello della competizione uguale, senza di quello manco cominciamo. Per questo ho posto il problema del rispetto dell'articolo 39, i primi due capoversi, poi arriviamo alla contrattualità, nel momento in cui continuano ad essere esclusi ovviamente le organizzazioni di base, ormai da 50 anni. Quindi, l'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale è stato quattro anni fa, quanto dobbiamo ancora aspettare, e lo dice esplicitamente la Corte Costituzionale, ancora volete monopolio, ancora volete tutele, non vi basta tutto quello che avete mantenuto con lo statuto dei lavoratori, per cui io ed altri abbiamo lottato, peraltro ovviamente, eccetera. Quindi quello è, in questo momento non c'è, quindi primo criterio, quasi a premessa, bisogna sancire questo, primo è fondamento assoluto. Secondo fondamento, il problema delle possibilità alternative riguardo alla magistratura del lavoro. Ma voi sapete com'è nata la magistratura del lavoro? Sapete che con le lotte degli anni 70 e successive abbiamo introdotto il diritto del lavoro che prima era escluso, e quindi il pretore antico e attualmente il Tribunale del Lavoro era gratuito, era iscritto a premessa della gratuità, perché il lauratore è parte soccombente, mica è parte vincitrice dentro questo passaggio. Quindi è il contenzioso in magistratura, è lo stesso contenzioso riguardo ovviamente alle conciliazioni, o è gratuito, oppure oggi il lavoratore soccombente lascia perdere, ovviamente nonostante che prende tanti di quei calci nel sedere tutti i giorni, ovviamente perché il sistema della prepagalità che è stato inventato questo è. Ma stengo allora a continuare. Prego. Abbiamo già risposto, penso, nella nostra relazione. Noi siamo fermamente contrari alla proposta a Polverini e Grimaudo, perciò penso che ogni discussione su questo argomento sia superflua. Orsa. è proprio il problema, è proprio quello, cioè un impianto di legge che si propone così tante cose e che poi a un certo punto dice che delega ai sindacati più rappresentativi, non si sa che cosa l'organizzazione di tutto un comparto, che è quello privato, parliamo delle relazioni industriali, crea questo qua. Ripeto, almeno io come Orsa, noi siamo più che favorevoli a organizzare la questione, ma non capiamo chi è che debba fare la suborganizzazione, mettiamola così, come l'avete messa voi giù. Quindi, la proposta che vi abbiamo fatto, che magari è anche insufficiente, diteci come si riconoscono quelle confederazioni che... perché almeno, cioè io voglio che qualcuno, io pure ogni tanto vada a votare e leggo qualcuno, no? Però, bello, mi piace o non mi piace quello che fa dopo, almeno l'ho votato. Così gli mettete la corona in testa per legge. È un problema, è un problema di credibilità proprio, ma non vostra, è un problema di credibilità del sistema, di quelli che poi andranno lì e non si sa perché stanno lì. Grazie. Prego. Onorevole, umilmente, ho riportato nella mia relazione, pagina 4 seguenti, un brano tratto dal libro in pubblicazione del professor Ricchino, proprio sulla questione del perimetro contrattuale. Allora, se è la categoria che preesiste al contratto o se è il contratto che dà vita alla categoria. credo che la via maestra per definire il perimetro contrattuale alla luce delle poche considerazioni che ho espresso nella relazione sia quella di superare il conflitto tra i commi del 39 dando via al principio che è il contratto che crea la categoria e quindi il perimetro contrattuale è in quella luce dà. con tutte le problematiche che capisco dovrete affrontare e che lascio ben volentieri a voi onorevoli. Grazie. Grazie a lei. Prego. Gilda. Dunque, salto eventuali osservazioni sul perimetro di riferimento, materia scottante dalla quale mi tengo volentieri alla larga e vengo agli osservazioni dell'onorevole il professor Viscomi. Dunque, una cosa che ci sta molto a cuore per quanto riguarda i rimedi stragiudiziali è il fatto di rendere accessibile la giustizia ai lavoratori. Questo è un paese dove le retribuzioni sono bassissime, gli avvocati costano, i giudici si difendono dall'assalto dei ricorsi aumentando le spese della soccombenza. E questa è anche una scelta del legislatore, attenzione, perché se seguiamo le vicende della riforma del codice di procedura civile scopriamo che mentre prima era abbastanza facile compensare le spese, adesso per compensare le spese ci devono essere gravi ed eccezionali motivi da specificare nella motivazione della sentenza. Cioè, motivi che resistono alle obiezioni ma che a loro volta sono di nicchia, eccezionali. In buona sostanza il giudice è tenuto, anche se poi sappiamo che il giudice in effetti, essendo il legislatore del caso concreto, quando dice, evidentemente lo fa con grande libertà, quindi anche il discorso della compensazione in qualche misura non viene applicato alla lettera. Però vi posso garantire che quando perde il lavoratore, 99 volte su 10, non solo viene condannato alle spese, ma le spese di solito sono più alte rispetto alla soccombenza, in questo caso io sono un dipendente della pubblica amministrazione, seguo il pubblico impiego, di solito la soccombenza della pubblica amministrazione non viene, come dire, valorizzata come quella del lavoratore. Quindi il problema esiste. Allora, se non si può entrare in tribunale, se non si può entrare in tribunale, bisogna trovare un'altra soluzione. Il professor Viscumi prima giustamente manifestava delle perplessità per quanto riguarda l'utilizzo di giudici non togati, una volta si chiamavano sezioni stralcio. E sono delle perplessità che non possiamo non condividere, evidentemente, data la delicatezza delle questioni. Però anche il contenzioso del lavoro non è un contenzioso fatto soltanto di indennizi per infortuni sul lavoro gravissimi e licenziamenti. Il contenzioso del lavoro è fatto anche di contenzioso bagatellare, cioè di situazioni interne all'organizzazione dell'amministrazione dell'impresa e poi per quanto riguarda poi quest'inaspremento costante del rapporto gerarchico-verticale tra il lavoratore e la dirigenza, evidentemente anche per quanto riguarda il contenzioso disciplinare. Quindi una possibilità, perlomeno per quanto riguarda il discorso della pubblica amministrazione, potrebbe essere quella offerta dalla proposta di legge Granato, la 1097. La senatrice Granato propone praticamente l'istituzione di un collegio arbitrale, chiamiamolo così, formato da tre giudici, che nel caso specifico sono tre ispettori interni all'amministrazione e questi ispettori praticamente agirebbero con lo stesso potere dell'arbitro. Ecco, questa cosa viene adita a domanda, quindi non costerebbe nulla. In buona sostanza sarebbe una riedizione in chiave moderna di quello che una volta era il ricorso gerarchico, per intenderci. E questa è una cosa che non costerebbe nulla. Non costerebbe nulla e farebbe bene all'amministrazione, in particolar modo alla scuola. Si può pensare a qualcosa di simile. Poi per quanto riguarda il discorso del privato in senso stretto, sì, è vero, l'arbitrato e il rituale previsto dai contratti collettivi è stato scarsamente utilizzato. Ma è stato scarsamente utilizzato probabilmente perché non sono state introdotte delle misure che potessero renderlo obbligatorio. Voglio dire, se l'arbitrato dovesse diventare, concludo Presidente, è proprio l'ultima cosa, se l'arbitrato dovesse diventare condizione di procedibilità, allora la faccenda sarebbe diversa. Se l'arbitrato è solo eventuale, magari indicando una serie di situazioni di natura bagatellare. Nessuno pretende che si possa andare dall'arbitro per una questione di licenziamento, nessuno pretende che si possa andare dall'arbitro per l'operaio che è caduto dall'impalcatura e del rimasto tetraplegico, perché non sono state rispettate le norme sulla sicurezza. Non ci riferiamo a questo. Insomma, diciamo, una sorta di elemento intermedio di, come dire, terra di mezzo, anche se adesso questa accezione ha subito, come dire, un significato deteriore, ma insomma io penso invece alla letteratura. Una terra di mezzo che consente in buona sostanza di risolvere le situazioni senza spendere un sacco di soldi e senza aggravare il contenzioso del lavoro che è al collasso. Ecco, il contenzioso del lavoro è al collasso nei tribunali. Ultima cosa, 30 secondi, solo per rispondere all'onorevole Viscomi. La nostra proposta per quanto riguarda la proposta di legge Polverini era una proposta, diciamo così, di negoziato. Noi ovviamente non possiamo vedere con favore una incursione pubblicistica in una situazione contrattuale. Ma se proprio questa incursione pubblicistica dovesse esserci, tanto vale inventarsi qualcosa in cui un tavolo negoziale possa mitigare gli effetti di questa verticalizzazione legislativa delle procedure negoziali. Grazie. Grazie a lei. Ultimo intervento. Prego. Grazie. Io penso che quello che sia stato sollevato un po' da tutti siano degli aspetti specifici di cui sintetizzo le parti. Il perimetro. È ovvio che il perimetro è importante. Ed è importante anche, abbiamo assistito nel pubblico, che la modifica del perimetro serviva ad escludere dei sindacati. Ora, noi siamo rappresentativi su tutti i comparti e su tutte le aree di rigenza del pubblico. Però è ovvio che se io accorpo settori quali è l'università e la ricerca al settore della scuola, noi siamo con Gilda, voglio dire, anche nel pubblico, ma il concetto è ovvio che io stralcio e impedisco la possibilità di essere rappresentati, voglio dire, a settori importanti, quali è l'università e la ricerca autonomamente, indipendentemente dai numeri che puoi avere. Altro punto, metalmeccanici, quale dei contratti adottiamo? Quello di FCA, quello di Federmeccanica, quello di Finmeccanica, di Confimi, quello di Confapi. Che vuol dire? Cioè, comprendiamo che non è che possiamo delegare degli aspetti di diritto civile alle organizzazioni sindacali che se troveranno un accordo, no, lo faranno per altri motivi, molto spesso economici, di potere ed altro. Ora, che il Parlamento della Repubblica Italiana e la democrazia deleghi a soggetti privati che vengono percepiti da tutti come una casta a cui sei costretto a pagare molto spesso il pizzo, no, per poter avere neanche un poco dei tuoi diritti, beh, è un discorso assolutamente incredibile, no, da poter assistere. Noi, FLP e il CSEA, è quella che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per lo sblocco dei contratti pubblici. Siamo stati gli unici a farlo. Per dieci anni. Pensate veramente che gli altri CGL e Slewell non avessero avvocati? Oppure che cosa è avvenuto nel governo Renzi di tutto di più? Oppure che oggi sia impossibile iscrivere un pensionato se non sei presente al CNEL? Cioè se tu non sei rappresentato al CNEL, tu, un pensionato, non può essere iscritto con te. Allora di che parliamo? La nostra guerra, lotta, no, per la democrazia, noi eravamo al CNEL e avevamo anche, fino a marzo dell'anno scorso, la più grande organizzazione dei bancari, la Fabi. Cioè da sola è il 54% di tutto il settore bancario. Perfetto è stata costretta perché la Boschi, che non gradiva ovviamente le nostre posizioni libere, ci è escluse, cioè il Consiglio di Stato aveva dato ragione, il TAR l'ha condannata due volte, ci è escluso per la terza volta la Fabi, è stata costretta a togliere l'affiliazione a noi per aderire ad altri che erano presenti nel CNEL. Perché la Boschi con un decreto avrebbe tagliato ovviamente centinaia di milioni di euro alla Fabi che pure ha tanti pensionati. Allora, su questi problemi che sono di aspetti di democrazia, su aspetti di diritto, lo deve stabilire il Parlamento, anche quello che siano le confederazioni. Nel pubblico esiste, sei presente in due comparti, sei confederazione maggiormente rappresentativa. Non è possibile che invece i sindacati si mettano d'accordo e a maggioranza scelgano qual è la rappresentatività, qual è l'altro aspetto. Ultimo punto riguarda le modalità di accesso. Le modalità esistono dei diritti che devono essere garantiti a tutti, dei diritti sindacali. Poi esistono quelli che ti possano scaturire dal contratto. Allora, nel contratto potrai avere le libertà sindacali, potrai avere le sedie ed altro, ma pensare che il datore di lavoro non sia obbligato a farti la trattenuta sindacale come oggi fanno anche enti tipo le poste, non parliamo dell'industria Fiat e Confindustria che ti dice non siamo interessati a garantire che nelle nostre aziende ci siano anche altri sindacati. Ma che vuol dire non siamo interessati? Io ti mando la delega e tu mi dici che non sei interessato. chiediamo di firmare i protocolli che sono stati firmati? Non siamo interessati che tale protocollo, no, anche per l'RSU sia sottoscritto anche da voi. Allora, cortesemente, il problema di casta che è stato percepito e che oggi è percepito da tutti i cittadini nei confronti della politica, oggi è percepito integralmente da tutti i cittadini anche nei confronti del sindacato. Ci auguriamo che questo Parlamento, che comunque sia, ha segnalato una volontà di cambiamento da parte del popolo italiano, poi lasciamo stare i giudizi, ma sia in grado di governare anche qualcosa che non sia consegnato in mano a una casta che oltretutto, qui il problema economico, quando nei sindacati tu hai che la maggior parte del tuo fatturato non è di attività sindacale stiamo parlando di aziende, non stiamo parlando di fare attività sindacale, non possiamo consegnare il monopolio aziendale perché anche il monopolio dei CAF, che poi viene utilizzato in maniera politica, anche il fatto che da tanti sindacati abbiano gestito la politica qualcuno ha fatto addirittura un partito politico e poi ha scoperto che non serviva, ma altri, viceversa, c'è un travaso quotidiano di passaggi alla politica. Bene, noi riteniamo che il settore mercantile, mettiamolo in questi termini, economico debba essere slegato e i bilanci debbano essere certificati quindi l'articolo 39 venga attuato a partire dalla certificazione dei bilanci e sapere anche che se uno fa sindacato vive sulle quote sindacali se uno fa altre aziende deve essere totalmente staccato da quello che sia invece l'attività sindacale. Grazie a tutti per il contributo, dichiaro chiusa l'audizione e spero di vederci presto per arrivare all'obiettivo di democrazia più ampia. Grazie mille.